La nostra psiche è costituita in armonia con la struttura dell'universo e ciò che accade nel macrocosmo accade ugualmente negli infinitesimi e più soggettivi recessi dell'anima. Carl Gustav Jung. Uno che la sapeva lunga, ma cosa significa? Significa che così come il cosmo, l'universo ha bisogno di ordinarsi, bisogna che si formino le galassie tramite la legge di attrazione, bisogna che si formino i sistemi solari, bisogna che si formino i sistemi terra-luna. Allo stesso modo noi per ottenere un obiettivo, per dare compimento al senso profondo della nostra natura che è quella umana, dobbiamo essere formati, dobbiamo diventare uno, dobbiamo essere integri e non frammentati e quindi oggi una figura fondamentale di questo periodo storico è la persona che lavora per riunire le anime, gli spiriti frammentati. E noi questa sera ne abbiamo uno, uno fra quelli che più di tutti sta dando un contributo all'umanità in questo senso. Ed eccoci qua, avrete capito che stavamo parlando di uno psicoterapeuta fondatore di Aleph umanistica, musicoterapeuta, soprattutto fondatore di una grande, grande comunità di migliaia di persone che ogni anno ritrovano la propria interezza interiore a tutto beneficio della loro vita personale ma poi anche della comunità. Io solo sa se in questi tempi di integrità a livello di sociale avremmo bisogno. Stiamo parlando chiaramente di Mauro Scardovelli che torna con estremo e infinito piacere qui su Bio Blu, la TV dei cittadini. Benvenuto. Grazie Claudio. La tua presentazione è una grande presentazione e francamente non aspettavo perché è esagerata quasi. Vabbè comunque in effetti noi lavoriamo proprio nella direzione che dici tu, ci proviamo in tutti i modi. Come sai l'ultima volta ti abbiamo parlato di quello che abbiamo denominato il modello base. Modello base che si rappresenta facilmente con questo schema e lo si definisce in un minuto e mezzo circa. Allora in alto ci sono i genitori e nel secondo scalino ci sono i figli. Si vede così? Sì, perfetto. Il figlio a sua volta poi diventa genitore di se stesso. Quindi G e poi in basso e quindi deve essere il genitore dei propri bambini interni. Diciamo invitiamo le persone che non avessero visto la scorsa intervista a riguardarsela perché chiaramente lì c'è tutta la base, l'essenziale per capire quello che sta dicendo Mauro Scardovelli adesso e che andremo poi a illustrare. A illustrare sinteticamente perché vi parlerò oggi degli aggiornamenti accaduti in questi ultimi due mesi e mezzo. Comunque un minimo ci dedichiamo. Allora non c'è figlio che non riceva qualche carenza d'amore dai genitori. Queste carenze d'amore sono nella forma di eccesso di controllo oppure forme di abbandono, di indifferenza, qualunque foste queste forme, sono forme per cui il bambino non si sente completamente amato. Ebbene, queste forme, chiamiamole di oppressione, sono poi le stesse che la persona che era figlio quando diventa adulto riproduce al suo interno con le sue parti più piccole, cioè con i suoi bambini interiori. Quindi se io ero stato non visto, non riconosciuto, quello che farò nella mia vita, anche da grande, è di non riconoscere, non vedere i bisogni delle mie parti più piccole. Ecco, questo modello è un modello totalmente innovativo rispetto alle terapie tradizionali che si concentrano molto sulla prima degli scalini e pochissimo sul secondo e non comunque come facciamo noi. Il secondo scalino, questo, dell'oppressione che noi facciamo su noi stessi, si cura molto facilmente. Un'altra volta avevo parlato di una mezz'oretta. Oggi ti posso dire che il vero e proprio lavoro terapeutico dura tra i 5 e i 10 minuti e poi ci vogliono altri 10 minuti, 12 di diagnosi. Diagnosi vuol dire che tipo di oppressione ho ricevuto. Ecco, e una volta capito il tipo di oppressione sono praticamente certo di poter sapere che la persona con cui lavoro è come lui opprime se stesso. Per cui si tratta di far dire alla persona, se io sono il consulente, il terapeuta, una volta che la persona è stata guidata a vedere una sua parte piccola, di solito partiamo dalla più sofferente, una parte di 3-4 anni, una volta che l'ha vista e ne vede la difficoltà, ne vede la sofferenza. Chiedo ancora che cosa provi tu verso questa tua parte interna? Alcune persone, anzi la maggioranza di solito dice mi dispiace, davvero oppresso. E cosa vorresti fare? Vuoi aiutarlo? Sì, voglio proprio aiutarlo. A questi punti da quel momento in poi ci vogliono circa 5-10 minuti al massimo per far arrivare il punto in cui il genitore adulto che tratta il bambino finalmente può abbracciare questo bambino che è pacificato e portarlo dentro il suo cuore. A quel punto quello che era una scissione interna, la scissione fondamentale, tu hai parlato prima di Jung quando parla della scissione dell'ordine cosmico e dell'ordine che ci deve essere al nostro interno. Allora l'ordine primo che ci deve essere al nostro interno è che l'io adulto deve essere in grado di rapportarsi con le proprie parti piccole come un ottimo genitore fa con i bambini. E fatto questo effettivamente le persone fanno un cambiamento radicale perché dalla iniziale scissione si giunge ad avere un fenomeno di integrazione. finalmente questa parte piccola viene integrata dentro di me, quando la persona fa questo lavoro di solito si commuove dicendo le lacrime perché è un momento sacro in cui tutta la vita che è stata prima, con i conflitti, con le passioni tristi che normalmente accompagnano periodicamente alla vita umana, quel periodo lì viene superato e di lì inizia una vita nuova, quella di Dante, la vita nuova in cui il rapporto con se stessi è un rapporto amorevole e quando noi abbiamo un rapporto amorevole con noi stessi noi siamo al sicuro, cioè noi costruiamo finalmente una base sicura interna che ci mette a riparo da tutti gli attacchi che possiamo ricevere dall'esterno. Gli attacchi esterni se noi siamo uniti non possono produrre danno psichico, fino a quel momento invece sì. E questi cambiamenti sono durevoli nel tempo oppure ogni tanto ci vuole un rabbocchino? Allora in questo periodo abbiamo lavorato proprio su questo tema. Cosa ci vuole per far sì che una persona poi non ritorni al punto di prima? Ecco, allora una delle prime cose più importanti è saper fare bene il lavoro con i demoni. Adesso forse l'altra volta non ne ho parlato, però i demoni. Aurobindo le chiama le forze avverse. Allora quello che la teoria a cui seguiamo è questa. I demoni hanno il compito, hanno una funzione, testare se la nostra corazza spirituale è solida. Se non è solida le voci dei demoni penetrano dentro di noi e generano sofferenza. Perché ad esempio ci dicono tu non vali, tu non sei capace, tu non sei all'altezza, tu non sai fare niente di buono, tu sei brutto, tu sei stupido e così via. Allora i demoni riescono a far penetrare queste voci contro di noi a un'unica condizione, che la nostra corazza spirituale abbia delle fratture. E allora come si fa a evitare che i demoni possano contagiare la nostra vita e lo fanno di tutti? Come si fa a rinforzare la corazza spirituale e fare in modo che non possano più entrare c'è un unico modo. Rafforzare la corazza. Rafforzare la corazza e la si rafforza rafforzando l'unione interiore. Cioè se io e il mio bambino, questo che ho provato la prima volta, ma poi magari ne trovo degli altri, se noi ci uniamo tutti e io mi prendo l'impegno di mantenere questa unione tutto il giorno, sempre, non abbandonarli mai, allora i demoni non possono fare niente. Ma nemmeno le altre persone. Se una persona mi insulta, me ne dice tutti i colori, mi dice che sono un pagliaccio, che sono dietro con tutti i stupidaggini, questa cosa non mi tocca. Perché una volta che io mi sono unificato, il mio livello di coscienza si è alzato, si eleva al livello di coscienza e quindi da un livello di coscienza più alto, quello che mi dice un'altra persona lo riconosco come proveniente dall'altro che non riguarda me. Sei tu che mi vedi così? Non mi tocca. Ecco, questo dà alla persona che ha fatto il modello, questo modello, una forza interiore che prima non poteva avere. La forza interiore che è la forza della verità, la forza della giustizia, la forza del bene. E in fondo il modello base consente di applicare nella vita reale, concreta, le parole di Gesù. Amatevi l'un l'altro come io vi ho amato, ama il prossimo tuo come te stesso. Il mio prossimo, prossimo, più prossimo sono le mie parti più piccole. Quando io amo le mie parti più piccole, come un buon genitore ama i propri figli, le persone possono dire quel che vogliono, ma le mie parti piccole le proteggo, perché posso sempre dire loro. Ma guarda che questo è sottubitacido. Lasciale dire, lascia dire. Poi dice, ma se spesso succede, posso anche dire, in questo mondo oggi, le persone che si comportano bene, di solito il risultato che ottengono è il male, cioè il male degli altri. Non è mica facile che una persona che si comporti bene venga accolto. Può succedere, ma è raro. Di solito chi viene accolto oggi nel mondo neoliberista e che viene portato in alto è chi si comporta male moralmente. Stavamo parlando prima di centri, anche di medicine alternative, dove pure lì si fa qualcosa di diverso dalla medicina convenzionale. In gran parte, l'ultimo stupendo libro di Citro, avete il Massimo Citro. Stupendo. Spesse volte. Diversamente sani. Diversamente sani, un libro magnifico. E lui dice spesso, dice, la medicina convenzionale sembra che faccia di tutto per farci ammalare, perché le cose vere che servono a guarire le toglie di circolazione. Allora, purtroppo, anche coloro che si presentano come diciamo colleghi di Citro, con la stessa intento, poi in realtà sono preda del bisogno di far soldi. Far soldi, ma non quello che è giusto, ma farne di più, perché se faccio più soldi, nel mondo neoliberista, io sono più bravo. Ed è sempre quella ricerca di potere che rende impossibile che l'amore si diffonda. Tra noi non ci potrà mai essere amore e amicizia se ognuno di noi cerca il potere sugli altri. E perché cerca il potere? Perché siamo impauriti gli uni degli altri. Dopo la Margaret Thatcher dal neoliberismo in poi, siamo diventati tutti individualisti, ognuno per sé, ognuno in lotta con tutti gli altri, per cui lei è una mia competitor. Per cui io devo cercare, se faccio soldi, di averne di più. E se lei ha un'azienda e io ne un'altra, io devo cercare di farla fallita. Se vogliamo fare un parallelo con il funzionamento del corpo umano, è un po' come quello che accade quando c'è un tumore, dove c'è una parte del corpo che accresce smisuratamente a riscapito delle altre. Dopodiché cosa si ottiene? Che sopravvive, non sopravvive, muore lei perché muore l'intero organismo. Muore l'intero organismo. Quindi a livello sociale operiamo lo stesso... Esattamente. Proprio così. Lo stesso meccanismo dell'eterio. Proprio così. Infatti, adesso ne parleremo poi nel progetto politico, il progetto politico nostro è un po' in fondo quello di Gesù, perché è un progetto politico. Portare il regno di Dio sulla terra non era a dare... ma qui. Cioè amatevi l'un l'altro come io vi ho amato, vuol dire portare il regno di Dio sulla terra, vuol dire creare amicizia, solidarietà e tutte quelle qualità che rendono la vita degna di essere vissuta. L'altro che ha cercato di fare questo, un altro grande, è stato Dante Alighieri che voleva portare la gentilezza nella politica. Aveva questo compito, si era proposto e poi infatti è stato messo fuori da Firenze e noi abbiamo la Divina Commedia grazie a questo, però insomma a lui gli è costato caro. Credo di averti detto abbastanza sui demoni, è chiaro questo? Chiarissimo. Sì. Allora, il lavoro sui demoni è importante, talvolta bisogna farlo mentre si fa il modello base, perché mentre lo si fa a un certo punto si vede la persona, è arrivata magari a avere il bambino qui nel cuore, a un certo punto gli chiedo, quanto stai bene adesso da 0 a 10? Mi dice 9. Che cos'è che fa sì che tu non riesci a raggiungere? Cos'è? Perché questo 9? C'è qualche voce che dice qualcosa dentro di te, senti una voce e praticamente sempre qualcuno mi dice, eh, c'è una voce che mi dice tanto questo non funzionerà, tanto non ci riuscirai, tanto no. Ecco, queste voci apparentemente sfugono alla nostra attenzione, in realtà guidano la nostra vita. Allora, aver scoperto un modello per cui queste voci finalmente vengono messe, sono voci nemiche, no? Allora, si parla tanto dell'importanza della sovranità nazionale, giustamente, perché se noi non siamo sovrani c'è qualcun altro da cui dipendiamo, siamo dipendenti e ci sono tutte le problematiche che noi sappiamo a livello economico, politico, eccetera. Ma lo stesso vale al proprio interno. Se io al mio interno non sono io che decido, ma le convinzioni profonde le decidono le forze avverse, che poi non sono altro che la riproposizione dentro di me delle forze sociali di oggi neoliberiste che vogliono la nostra decadenza. Infatti questo era il senso un po' del preambolo. Penso che viviamo, Mauro, in un momento molto particolare, in cui da diversi anni ormai si è perso un po' la fiducia, la speranza, quell'illusione che c'era stata forte di poter predeterminare il proprio destino, ha lasciato spazio a un caos indistinto, indeterminato, dove le persone rifuggono dall'impegno, probabilmente preda dei demoni che gli dicono guarda che tanto fallirai, non serve a niente, quindi magari si mascherano dietro a nobili principi ideali, teorie bislacche, alternative, ma finiscono per l'essere preda di piccole menti che operano proprio invece secondo i dettami chiari del neoliberismo che bene ha illustrato, cioè quella voglia di prosperare per il proprio ego a svantaggio di tutti gli altri. Quindi il momento sociale è così, bisogna secondo me ritrovare la possibilità di eliminare quella frammentazione e come tu hai sempre insegnato, il lavoro prima di tutto deve essere fatto sull'individuo, uno deve guarire, poi quando sei guarito ricomincia a considerare come interagire con gli altri. Questa metafora che tu hai fatto sulla famiglia interiore, io potrei vederla così, è molto bella perché in effetti se tu ci pensi, buttandolo un po' sul materialista, che non è materialismo però diciamo lo scientifico materialista, noi siamo una comunità di miliardi, miliardi, miliardi di cellule che operano, cooperano e collaborano al nostro interno e quando smettono di cooperare vediamo cosa succede e noi abbiamo insomma come io coscienziale abbiamo una responsabilità, ogni tanto bisognerebbe pensarci, io ho la responsabilità che la mia mano stia bene e di chi è la responsabilità? È la della mano, sono io che la dirigo contro un muro per tirare un pugno a sfogare, un impulso nervoso e poi rompo le ossa, quindi allo stesso modo con l'alimentazione, i comportamenti sfrenati, diprivando il sonno, cioè questa responsabilità verso noi stessi, perché non riusciamo mai a sentirla? Come se noi non esistessimo, cerchiamo sempre qualcosa dal di fuori, dentro abbiamo un sacco di schiavi che lavorano ma li annichiamo nell'alcol, li obnubiliamo nelle droghe, poi rendiamo il mondo così difficile per questi miliardi, se leggi il libro di Citro e l'hai letto, all'inizio c'è una bellissima descrizione dell'insieme delle cellule che sono organizzati come vie, strade, vicoli, la spazzatura, le cose che si accumulano, come mai non riusciamo a porre attenzione verso noi stessi e psicologicamente e materialmente? Allora, la propaganda gioca un ruolo fondamentale, perché la propaganda oggi su tutti i settori è una propaganda che serve al grande capitale, ai grandi gruppi finanziari, quindi non c'è nessun interesse dell'elite di farci star bene, ma semmai il contrario, per cui il fatto di propugnarci, venderci alcolici, sigarette, fumo, tutti questi vizi qua, che servono ad ammalarci presto e poi fare una vita difficile in preda ai farmaci, preda magari a anche malattie di una certa serietà, ecco ma questo serve all'industria, cioè se noi ci ammaliamo l'industria guadagna di più, guadagna di più, vende più farmaci, non sono interessati loro al bene, quindi pensa solo al settore sanità, se il settore sanità fosse diretto al bene, ma gli ospedali sarebbero come quelli di oggi, ma non è possibile, cioè oggi c'è una lista d'attesa che non finisce più, per cosa? Perché mancano i soldi, perché mancano i soldi? Nel neoliberismo c'è il tema del debito pubblico, che è una truffa colosale, gli economisti ce l'hanno spiegato infinite volte, però io che ascolto spesso prima pagina e sento i riaggi ascoltatori, cosa dicono? Tutti i giorni dicono qualcosa, diceva che i soldi non ci sono, si potrebbe far questo ma non ci sono, la scuola, i soldi non ci sono, ecco sono tutte stupidaggini ovviamente, però così come è ammalata la sanità, è ammalata l'economia, è ammalata la finanza, sono tutte funzioni che gli esseri umani potrebbero svolgere sotto l'insegna dell'amore reciproco, invece sono sotto l'insegna del potere degli uni sugli altri, quindi è questa qui la ragione, per cui è difficile, insomma in Aleph per così di persone ne perdiamo per questa ragione, vengono da noi, fanno un lavoro, stanno dieci volte meglio, sono felici, dopo un po' tornano a casa, rivedono i vecchi amici, rifrequentano le stesse compagnie e dopo un attimo si scioglie tutto, perché il lavoro fatto non può funzionare se non hai una comunità che ti sostiene. Ecco, il neoliberismo si gioca in gran parte sulla distruzione delle comunità, quella del corpo è una comunità, la famiglia è una comunità, ma anche la comunità di nobili amici, di persone che condividono gli stessi scopi, per esempio uno degli scopi che condividiamo è attuare la Costituzione, si chiama così la nostra associazione. Allora, attuare la Costituzione vuol dire attuare l'anima del popolo italiano. Ora, questo è un grandioso progetto, le persone che l'hanno capito, e ci sono persone che l'hanno capito, come mai poi se ne vanno e disfano il lavoro fatto? Perché la propaganda è così potente, diciamo che c'è una comunità ordo liberista che è potentissima, è una anticomunità perché vuole mettere uno contro gli altri, però è una moda. Cioè, ma perché le persone fanno il male di se stessi così tanto spesso? Ecco, questo noi lo vediamo. Vi volevo aggiungere inoltre un'altra cosa a lato, che però è sulla linea, che il modello base, l'abbiamo verificato, serve a curare i problemi fisici. Cioè, avevamo un problema ai polmoni, che non si sapeva cosa farci, abbiamo fatto il modello base, quel problema non ce l'ha più. Sono persone che hanno dei dolori, delle cose che scompaiono. Io stesso ho fatto su di me recentemente un... e devo farne ancora uno perché siamo andati avanti in quel settore. In quel settore siamo andati molto avanti, poi ti dirò altre cose così. Perché se tutti i giorni ti dedichi alla stessa cosa, è chiaro che progredisci se hai intorno a qualcuno con cui condividi, no? Certo. E recentemente siamo andati a imbatterci sulle vite precedenti, che è un tema che chi pratica l'ipnosi seriamente si è trovato qualche volta. L'ipnosi regressiva? Eh, ma non c'è bisogno. Su BioBlu abbiamo fatto un lungo speciale condotto da Michele Crudelini che ha avuto un sacco di successi, oltre il limite. L'ho visto, ho visto, credo di aver visto questo video. Allora, l'ipnosi regressiva è una grande moda, come tutte, e sembra che bisogna fare chissà che cosa per fare questo. Ma noi, sai, la nostra tecnica è molto semplice, conto fino a dieci, è piuttosto banale. Uno, dieci, vale facile, dieci, nove, otto. Lentamente, inducendo nella persona un rilassamento e poi inducendo alla fine, quando ho finito questo percorso, di andare in un luogo totalmente naturale, senza tracce umane, dove incontrerà una figura, un'immagine, un personaggio, un simbolo che gli dirà ciò che è veramente importante, che lui sappia per trasformare la sua vita. Ecco, recentemente, è un po' che facciamo questi esercizi, recentemente è accaduto che, per esempio, a lei è successo. Ho fatto questa induzione e lei è finita in un luogo di enorme sofferenza. Io ho chiesto di andare indietro nel tempo per individuare il momento in cui era successo. Non era cinque anni fa, non era dieci, non era quando lei aveva vent'anni, quindici, dieci, otto, sette, cinque, quattro, tre, due, uno, concepimento. No, quindi prima. Allora io ho chiesto quanto tempo prima, secoli o millenni? Dice, all'epoca delle crociate. Come? All'epoca delle crociate. Ah, caspita! E lei non ha visto moltissimo, se non una specie di lago di sangue dovuto a una specie di mattanza di bambini, in cui lei sentiva una sofferenza atroce perché non era riuscita ad aiutarli e a proteggerli, senso di colpa e così via. Abbiamo fatto un lavoro per trasformare questa immagine, partendo quindi dalla crudeltà terribile di questa immagine, trasformando, portando dentro questa immagine un livello di coscienza più alto, che avevamo già raggiunto prima, aveva fatto dei lavori, aveva raggiunto uno stadio di coscienza molto elevato, di stellare, insomma, in cui si sentiva pienamente leggera, totalmente libera e beata, beatitudine. Riprendendo il tema della beatitudine, irradiare quell'evento del passato con questa qualità dell'energia e pian pianino si è trasformato tutto. Per cui da quel cosa che era terribile e lei si vedeva la sofferenza che ha raggiunto, era atroce, si vede proprio nel filmato, noi filmiamo tutto, si vedeva lei ranicchiata così, un dolore sempre più intenso. Una volta raggiunto un certo livello l'ho fermata e ho fatto fare questo lavoro. Dopo un po' lei questa situazione l'ha trasformata, per cui quello che prima era per lei un peso che la tirava verso il basso, un gravame, diventava un propellente per la crescita. Cioè quanto più noi tocchiamo i punti più dolorosi nostri, sapendo centrare e poi sapendoli nutrire di amore e consapevolezza, quelle ferite diventano la nostra maggiore risorsa. Una specie di principio di Archimede psicologico. Esatto. Allora su questo ti fermo un secondo e continuiamo fra poco. Ben tornati, siamo qui con Mauro Scardovelli, parliamo di regressione ipnotica, parliamo di necessità di integrazione dell'anima, dello spirito, parliamo di metodo base, di tutte le tecniche che hai affinato nel tempo per riuscire a restituire alle persone la salute, anche fisica, anche fisica. Perché insomma se la psicosomatica non è un'invenzione, già dall'ottocento c'erano persone che dicevano che probabilmente alcuni effetti, non so mi ricordo l'isteria da conversione, eccetera, erano legati alla mente e sono anch'io convinto che diciamo la possibilità di far scaturire delle energie positive come una fontanella dalla propria anima, dal proprio cuore, sia in grado di risolvere tantissimi problemi fisici e anche di contenere della bulimia psicologica o alimentare per esempio, che spesso è una specie di compensazione. È un lavoro affascinante, io credo veramente, non mi fermerò mai di sottolinearlo abbastanza, che c'è bisogno di questo, c'è bisogno di questo, la gente deve capire che ha dei problemi, dobbiamo capire che tutti abbiamo dei problemi e dobbiamo cercare di metterci a posto. Tutte le volte che uno non si sente bene, che si sente inquieto, che si sente irritato, che è infelice, che è triste, che ha delle tensioni irrisolte, deve chiedersi cosa provocano queste tensioni e capire che probabilmente deve risolvere se vuole, perché il nostro scopo nella vita qual è? Scusami, essere felici o che cosa? Essere felici. E per essere felici bisogna essere liberi, liberi dagli ostacoli alla felicità. Gli ostacoli alla felicità sono per esempio la cattiva salute, lo è. E ostacoli alla felicità sono tutte quelle abitudini che abbiamo appreso e che ci vengono indotte, che ci distruggono la salute fisica e ovviamente anche quella psicologica. Sono due cose che vanno insieme, ma da ipocrati si sapevano queste cose. Quindi, come dice Citro, la medicina, il futuro della medicina è anche nel passato dove c'era una saggezza, perché anticamente il medico era anche filosofo, era un scienziato, era un letterato, aveva una serie di capacità che oggi il medico specialista di oggi, specialista in senso ormai neoliberista, per cui ognuno conosce solo un pezzettino del corpo, si specializza in una cura di un determinato disturbo psicologico, quando invece la cura fondamentale è una sola, quella del Cristo, cioè quella dell'amore. E l'amore si può svolgere, si può avere in un contesto comunitario, in cui ognuno viene aiutato dagli altri. Ecco, allora, io ti ho fatto una domanda prima, ti ho detto, ma questa trasformazione è persistente? E tu mi hai detto, a volte no, perché se uno torna indietro e si rimmerge nella sua comunità, allora siccome, continuo, finisco, continuo a avere gli stessi problemi, a volte io finisco le frasi a metà e non le continuo, allora, siccome la tua attività è molto simile e la citi spesso, diciamo, per versi diversi, però ha molto, si definisce spesso, cristica, no? Sì. Cioè l'attività che ha svolto uno dei grandi, insomma, illuminati su questa terra, che anche lui cercava di unire, poi a lui è finito un po' male, ma nel tempo è creato delle grandi comunità. E anche lui batteva su un tasto, lui diceva, Mauro, se ti ricordi, vuoi credi in me, lascia tua madre, tuo padre e seguimi. Cioè lascia, poi è un po' anche San Francesco, lascia, abbandona le tue ricchezze, le tue certezze. Quindi come fa una persona ad abbandonare il suo contesto malefico, che poi lo fa ricadere sempre nella stessa patologia, la strada dell'unione in una grande comunità che si allarga sempre di più è forse la soluzione. È necessario abbandonare le proprie radici, i propri amici, i propri genitori? Avviene poi spontaneamente. Cioè nel senso che se io mi avvicino a una comunità nella quale vedo soddisfare pienamente i miei bisogni più profondi, perché lì c'è la cultura, c'è l'arte, c'è la filosofia, c'è tutto l'insieme di quelle qualità che gli esseri umani hanno bisogno per poter vivere pienamente. Mentre fuori c'è un degrado culturale spaventoso, ecco, quando uno ha questa sensibilità, non è che chiunque può venire, ma qualcuno che ha questa propensione viene lì, dopo un po' naturalmente perde l'interesse a frequentare persone che vivono nel modo di prima, perché vede che quella cosa è tossica. Poi cercherà se possibile di comunicargli la sua esperienza. Se la sua esperienza è un'esperienza di grande felicità, mentre prima non era una persona felice, era una persona agitata, questo talvolta succede, per cui le persone chiamano altre persone. Però c'è sempre il rischio, è ovvio, perché l'attrazione del mondo esterno, che è il grosso ambiente dove noi viviamo, noi siamo un micro ambiente ancora, il grosso ambiente fuori, come potremmo dire la grande bestia di Platone, è fatto così, cioè è attratto da cose miserabili, cioè nel campo dell'arte, ma siamo a livelli inauditi nel campo e poi anche in campo scientifico, perché quando la scienza non è più al servizio dell'uomo, del bene dell'essere umano, ma al servizio delle multinazionali, credo non ci sia molto da discutere su questo. Le multinazionali sono le strutture psicopatiche che non hanno nessun interesse umanistico, hanno solo bisogno di incrementare il loro potere, crescere i soldi e così i grandi miliardari che possiedono questi. Sono società che lucrano per statuto, quindi. Lucrano per statuto. Sono loro a fare i farmaci, puoi immaginare perché li fanno. Ecco, non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, sì, è da capire come mai la società per natura non tenda al bene, ma tenda sempre al male. Aspetta, è una bella domanda. Allora, la società, cioè gli esseri umani naturalmente tenderebbero al bene, ma sono condizionati al male. Perché sono condizionati al male? Si possono avere tante spiegazioni, io sono, mi ritengo più un falegname che un intellettuale, mi basta una spiegazione plausibile, basta. Allora, circa diecimila anni fa l'umanità è un po' cambiata. Le società agricole e poi gli imperi idraulici hanno creato una distanza abissale tra coloro che detenevano il potere e tutti gli altri che per loro erano degli scarafaggi. Il rapporto di fratellanza, di empatia si è spezzato. Allora, oggi risentiamo ancora di questo nel tempo, la civiltà è andata avanti, ma il dislivello tra esseri umani è rimasto e oggi si è amplificata a dismisura, per cui non ci possiamo attendere che questi personaggi possano essere di alcun aiuto all'umanità, perché per loro l'umanità è fatta di scarafaggi. Stiamo parlando di chi sono queste persone? I multimiliardari, coloro che sono sempre un numero più piccolo, ma sempre più ricchi. Cioè, se vediamo l'indice, cosiddetto l'indice Gini, come è distribuita la ricchezza? Ci hanno più o meno tutti le stesse ricchezze? O ci sono pochi che hanno quasi tutto e gli altri hanno quasi niente? E siamo in questa situazione. Quindi, di un'ingiustizia sociale, terribile. È l'opposto del disegno costituzionale, ovviamente. L'economia prevista in Costituzione è un'economia che giunge a generare una classe media, ampia, sempre più ampia, e non un'estrema ricchezza e la povertà della maggioranza. Che è la fotografia della società. Nel liberismo è questo. Oggi siamo esattamente conclamati. Esattamente. Ecco, quindi se vuoi passiamo a un altro tema che mi sta molto a cuore in questo periodo, che è il disegno, cioè il progetto politico-spirituale. Allora, noi crediamo che la politica sia buona politica e quindi possa produrre un buon governo, in primo luogo se le persone si governano bene e quindi se fanno quel passaggio di cui abbiamo parlato fino adesso. E questo è previsto nella Costituzione, articolo 3, pieno sviluppo della persona umana. La Costituzione prevede questo come pre-requisito della democrazia costituzionale. Fatto quel passaggio che ciascuno è diventato libero dentro di sé, non più dipendente dagli altri, non più dipendente sottomessa a abitudini negative e così via. Allora si tratta di vedere come questo salto livello di coscienza individuale possa essere anche collettivo. L'articolo 3, secondo Com, prevede proprio anche non solo il pieno sviluppo della persona umana, quindi della coscienza umana, ma anche il pieno sviluppo della coscienza collettiva e quindi prevede che le persone si riuniscano sempre più in comunità, in cooperazione tra di loro, queste comunità, fino ad arrivare al popolo comunità. La Costituzione presuppone questo, cioè l'articolo 1 dice la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme limiti della Costituzione. Ma il popolo cos'è? È una comunità, non è un aggregato sparpagliato di individui, ognuno pronto a ammazzare l'altro. Da lì non si può nascere una democrazia. Oggi quando si parla di democrazia, per qualcuno che queste cose le conosce, questi corsi sono ridicoli. Sarebbe come dire parlare di benefattori in un circolo di pistoleri che si ammazzano. Cioè è folle sta cosa qua. Ora, molti intellettuali queste cose non le dicono perché le danno per ascoltate. Anche perché molti intellettuali il lavoro per sciogliere il loro, purtroppo, narcisismo non l'hanno fatto e quindi gli diventa difficile unire le forze. Ora, noi abbiamo dei signori intellettuali in Italia, delle persone che veramente hanno conoscenze straordinarie. Quasi sempre sono isolati, ognuno cura il proprio giardino, il proprio orticello, si dice così, e quindi non mettono insieme le cose. Ma il progetto nostro è quello di unirli. Cioè unire quindi le persone che sono a conoscenza della geopolitica. Faccio qualche nome, Dinucci, ma lo conosciamo tutti. Cioè una persona che, quando lo stai a sentire, non puoi dire questo qua ne sa un po'. Cioè, Dinucci è la gioca. Ti racconto una frase per uscire un attimo e fare un divergente. Una volta un allievo di Rossini ha chiesto, maestro, chi è il più grande musicista? E Rossini rispose, Beethoven. L'allievo disse, strano maestro, avrei pensato che lei mi rispondesse Mozart. E lui disse, mi hai chiesto chi è il più grande musicista? È Beethoven. Mozart è la musica. È la musica. Ecco, questo volevo dirti. Si tratta di fare un salto di livello di coscienza per cui l'intellettuale finalmente si siedono intorno a un tavolo e cooperino tra di loro, con le loro conoscenze. Perché altrimenti ognuno ha il suo pubblico e il popolo rimane sempre diviso. Quindi c'è un progetto in questa direzione qua. E poi ti dico un'ultima cosa. Io ho frequentato questo periodo da tempo, Marco Mori, che è una persona che ha una competenza giuridica ed economica di ottimo rilievo, eccellente rilievo e anche ha una visione di come si potrebbe attuare la Costituzione. Perché non è tutt'altro che facile uscire dall'Unione Europea. È molto difficile. Bisogna avere la capacità di creare dei nuovi rapporti con paesi che vogliono commerciare con noi. Si può fare, ma bisogna prepararlo. Altrimenti l'Italia rischia al default. Va bene. Con Marco Mori, dopo vari incontri, gli ho proposto un progetto che è questo. Di fare una serie di lezioni sulla Costituzione, una decina, in cui spieghiamo non solo la Costituzione economica e quindi cos'è il neoliberismo, cos'è la sovranità monetaria, com'è la via costituzionale, cos'è il diritto di proprietà dal punto di vista costituzionale, l'iniziativa privata e così via. Facendo vedere come la Costituzione economica è la messa in atto dei principi fondamentali, cioè dei primi dodici articoli, ma poi anche lezioni sulla Costituzione spirituale, di cui non si parla mai. Ora, la Costituzione spirituale, il nucleo è l'articolo 3 di cui ti ho parlato prima. Quando si parla di pieno sviluppo della persona umana vuol dire pieno sviluppo della capacità di amare, pieno sviluppo della coscienza e quindi di pieno sviluppo della coscienza cristica. Ora, è questo quando si facesse una comunità che inizia così e poi si espande, ma se facciamo un documentario, capisci, di tante lezioni, che almeno il popolo riesca a capire i fondamenti perché purtroppo anche le TV libere, che pure fanno un ottimo lavoro, per quanto sia non hanno ancora fatto dei documentari, i quali devono essere conosciuti da tutti, deve essere un bacino di conoscenza che diventa la cornice di tutta l'attualità. Cioè uno parla oggi è successo questo in Ucraina, adesso è successo quest'altro a Washington, benissimo. Ma per poter capire queste cose bisogna che uno abbia un cornice economica, finanziaria, politica, giuridica, geopolitica, ma anche sanitaria, che non è uno specialismo, non è più uno specialismo. Infatti so che tu avevi un'università. Eh certo, questo è il compito. Purtroppo il nostro è totalmente fallito, perché oggi fare cultura è praticamente possibile. Però oggi possiamo ritornare, perché l'idea che mi è venuta, sai, se noi trattiamo certi temi, essendo su YouTube, li andiamo tagliati, come sai, benissimo. C'è però un canale che Telegram può dire quello che si vuole. Quindi in quello si potrebbe mettere dei documentari che poi vengono dati a tutti coloro che ce li richiedono. Noi li vediamo. Facciamo questo servizio pubblico, questo sarebbe un servizio pubblico, quello perché il compito della formazione, stiamo parlando di università, il compito dell'università dovrebbe essere consentire ai cittadini di capire qualcosa del mondo. Ma che cosa sanno i cittadini del mondo? Che è confuso, che ci sono le guerre, che c'è il pericolo della guerra nucleare, che c'è questo, c'è quell'altro, ma non hanno una visione di insieme abbastanza sistematica come in fondo ci avevano all'epoca dopo la rivoluzione costituzionale, cioè nel 48 usciti dalla guerra. Non è che qualcuno confondeva il nazismo col comunismo, col socialismo. Delle idee di fondo c'erano. Adesso il neoliberismo ha fatto in modo che, così come è frammentata gli specialismi, è frammentata la mente. Potrei fare il disegno della mente frammentata? Come è fatta? Così, così, così. È una mente unificata. Una mente che fosse aperta, ogni fatto viene processato da tutto e c'è una cornice di interpretazione. C'è una visione di insieme. Una visione di insieme che mi fa dire questo è verso il bene, questo è verso il male. Sai che cosa ho notato? Ormai è da tanto che ci si occupa di questi temi. Certo. Ho notato che le persone tendono molto a non fare questo lavoro in autonomia, cioè a non fare sacrificio e la fatica di unirli questi puntini e di capire. Tendono però ad ascoltare qualcuno che magari mette insieme un po' di persone e ti spiega, ti fa questa unione dei puntini e ti racconta. E quindi poi ad assumere, diciamo, una visione, che non è quella personale, la visione di qualcun altro, di un terzo a cui danno un certo credito e dicono di lui ci possiamo fidare. Andiamo da Mauro, mi spiega che è così e io ci credo. Cioè è come se ci fosse questa tendenza nella gente, mediamente, forse preda dei demoni che dicono io non posso capire, allora vado da lui che me lo spiega. Allora ti chiedo, questa cosa chiaramente ogni attività che eleva la coscienza collettiva è fondamentale, però anche il ruolo invece del, possiamo chiamarlo intellettuale, una parola che non mi piace, no? Cioè l'illuminato tra virgolette, un'altra parola pessima, ma per far capire l'evoluto, cioè qualcuno che questo percorso l'ha già fatto, riuscire a far sì che queste persone, almeno loro, diciamo cooperino per dare una visione comune e un senso, una direzione di marcia, una piattaforma a cui molte persone, perché magari non sono abituate, non hanno magari gli strumenti, possano affidarsi, quindi anche questo lavoro sarebbe importante, no? Per me è centrale, cioè quello che stai dicendo è proprio l'obiettivo del lavoro che sto facendo. Cioè questa cornice non la posso fare io, io ho certe conoscenze, ma poi ho bisogno di giuristi, ho bisogno di economisti, ho bisogno di perti di finanza, ho bisogno di persone come Citro sulla sanità, come Fiore, come altri sulla sanità, ho bisogno di persone veramente esperte, i quali tra di loro i medici, quei medici migliori, che si uniscano un attimo insieme e ci dicano le cose fondamentali che il popolo deve sapere, senza pretenderli sapere chissà che cosa. Ma alcune cose che spiega Citro, per esempio, nel libro sono molto semplici e Citro spiega bene. Ora, se più medici cominciano a parlare in quel modo lì e la voce è la stessa, se i medici che parlano così si sono affiancati per esperti dell'educazione, di quello che succede nelle scuole e si vede che nelle scuole il neoliberismo in fondo è uguale dappertutto, distrugge le comunità, distrugge la salute, distrugge la vita. Quindi questo è un progetto, secondo me, da fare. Ci mettiamo a disposizione, se vi serve. Dobbiamo essere, voglio dire, abbiamo un pubblico indifferenziato. Le persone, purtroppo, capire voi che vediamo nei nostri corsi, capiscono sempre meno, sono sempre più intontite, poveracci, perché sono subissate tanto di cattive notizie continuamente, di continue emergenze, poi c'è sempre da aver paura di qualcosa, sono tutte situazioni nelle quali la mente umana non funziona bene, cioè il pensiero lucido e la mente chiara è frutto di una calma interiore, di una visione del mondo serena. Quando si è in agitazione si è piuttosto superficiale, non si capisce quasi niente. Per cui queste lezioni ovviamente dovranno essere anche quelle che, per esempio, adesso, non lo so, forse io parlo troppo, fa fretta adesso, ma io, per esempio, potrei dire, se ci fosse un pubblico, direi, passo a passo e dico, bene, che cosa ho detto fino adesso, per esempio, gli ultimi cinque minuti, cosa ho detto? Ecco, per esempio, lei è stata una degli allieve, la prima che quando gli dicevo, che cosa ho detto a questo? Ripeteva esattamente uguale. Perché c'è attenzione. Perché c'è attenzione con un laser. Ecco, però ce n'è una in un gruppo di cento persone. Adesso pian pianino se stanno formando molti di più, perché l'attenzione si può educare e poi si può educare anche come calmare la normale agitazione delle persone di oggi. Faccio vedere un esempio. Adesso vi faccio questo esercizio. Io conto fino a dieci metri. Faccio così. Uno e visualizzo uno. E nello strattempo lo disegno. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Allora, per questi quindici secondi, l'ho fatto un po' prima, la mia mente era focalizzata su questo. Cioè non si distraeva. Cioè la mente per poter seguire un discorso deve essere focalizzata. Perché se si distrae perde di pezzi. Allora, ci sono molti esercizi che abbiamo messo a punto per creare una mente che diventa un laser. Che diventa un laser cioè la cui attenzione non smette mai fino al momento in cui vuoi. Stai attento. Per esempio. Come interrompere la fibrillazione mentale. Esatto. Come se fosse la fibrillazione radiaca. Allora, vedi, io non è mi è difficile, ma nessuno è difficile fare per esempio così. Ma se mi succedesse che faccio così, mi succede così. Mi direi, ma c'ho qualche problema, voglio andare da qua a qua e la mia mente mi fa fare così. Faccio colazione, infilo un cucchiaino, un occhio. Ecco. Però la fibrillazione interna è data come naturale. Ma questo non è naturale nell'essere umano. Un essere umano sereno, che non è agitato da continue preoccupazioni, la sua mente è un laser. Quando non deve stare attenta a qualcosa, sta in pace, è al silenzio mentale. Questo si ottiene con le meditazioni, ma è un tempo infinito. Ci sono pratiche che possono essere molto veloci. Quindi, diciamo, la capacità, ma è vero comunque, anche semplicemente senza fare lezioni, ma parlare con un gruppo di amici e accorgersi che magari, in fondo, ognuno poi comincia a parlare con gli altri e non si riesce ad ascoltare una persona sola che dica una cosa, perché nel frattempo sorgono esigenze diverse, interruzioni, non c'è una linearità nell'esposizione, si salta di palo in frasca. Anche quella è un esempio di fibrillazione comunitaria che non porta quella comunità a esprimersi in un modo solo, ma è un esempio di divisione. Nel senso, ognuno va per la sua strada e in questo si fa, tornando all'esempio cristico, il gioco del demonio che vuole dividere con la torre di Babele. Imparare a essere attenti, anche fare un'intervista è una questione di attenzione, di concentrazione su un messaggio. E questo è difficile da far comprendere. Io ti voglio chiedere, siccome siamo in chiusura, una parola. Le persone oggi dicono non mi voglio impegnare in niente, così come non vado a votare perché non credo più in niente, così non mi interessa più quello che dice Tizio, quello che dice Caio. A queste persone tu cosa diresti? Allora, se fosse una persona mia amica, insomma, con cui posso parlare, gli direi, ti capisco profondamente. È ovvio che tu pensi così, visto quello che ti si presenta davanti, che è tutta una frammentazione, ti arriva una notizia, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, ti legge una cosa, poi una pubblicità, poi una... Guarda, basta sentire... Prendi un bel concerto che vuoi sentire su YouTube. Sentivo l'altro giorno il concerto di Vorge. Proprio nel momento culmine, tam, pubblicità. Allora, la pubblicità non nasce a casaccio per fare queste cose. Sì, serve a pubblicizzare qualcosa, ma serve soprattutto per rendere impossibile alla mente umana di accedere a un livello più profondo di realtà che non sia quella della superficialità assoluta in cui viviamo oggi. Che lì sì, che è un covo di demoni. Ecco, le persone purtroppo non è che è coppa loro. Vivendo in un contesto come... Adesso, se entrasse qualcuno e sparge qui un veleno nel... Non è che colpa mia e tu a un certo punto non riusciamo più a concentrarci. Se in un ambiente si sparge qualcosa di tossico, alla Cina, poveracci tutti quanti, solo quelli che sanno come fare con questo tossico, che... Ecco, per esempio, tu non so che conosci Fausto Carotenuto. Ok. Allora, Fausto Carotenuto è una persona e qui adesso sto approfondendo il pensiero. E lui è convinto che la maggioranza delle persone, come dici tu, è preda di... Tanto non c'è niente da fare, ti dicono. Non c'è niente da fare, è inutile impegnarsi. Perché? Perché sembra tutto impossibile. Poi ci sono quelle che non solo dicono, non c'è niente da fare. No, qualcosa c'è da fare. Visto che tutti fanno la lotta uno contro l'altro, anche io la faccio e cerco di vincere. Oppure ci sono quelli che si impegnano tanto, per carità, si impegnano a battaglie che sarebbero anche importanti, ma sono così. Tipo, se io mi impegno sui 5G, ora i 5G servono all'esercito americano, servono ai grandi potentati. Non è che tu fai una battaglietta col sindaco di direcco e ottieni risultato. Capisci? Cioè, è tutto l'insieme che... Allora, per poter aiutare le persone bisogna dargli la visione di insieme. E la visione di insieme è una visione che non può che passare dalla visione spirituale. Cioè di un cuore pacificato che riposa nella serenità. È lì la partenza. Allora, io auspico che sempre più persone vengano a trovarti perché questo sarebbe l'indice di una società in cammino che finalmente si dà un obiettivo e riesce a realizzarlo. A questo scopo, diciamo, ricordiamo come possono venire i tuoi corsi, Mauro. Sì, sì, possono trovare il sito. Digitano il mio nome. Unialef. 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 Ma anche... Penso anche con... Scriviamolo magari. Sì. Unialef, sì. Sì, sì. E i primi per cui lo auspico di andare su Unialef sono proprio i vari guru, capetti, santoni che stanno imperversando ognuno nella sua area e cercano poi di fare compilazioni divisorie proprio per non unire ma massimizzare i loro vantaggi personali. diciamo, se siete tutti qua a seguire me e quindi cercano sempre di frammentare. Preda dei loro demoni. Unialef. Grazie. Grazie, Mauro. Grazie, Carlo. Grazie tante. Grazie. Grazie. Grazie.